In realtà credo che sia stato detto molto di quello che ha fatto la Regione Friuli Venezia Giulia, che però rientra in un contesto nel quale ci stiamo attrezzando per il futuro prossimo, nel senso che siamo consapevoli che se non facciamo adesso questi passaggi fondamentali arriveremo sempre troppo tardi rispetto alle sfide che ci vengono poste, anche perché siamo una Regione fortunata per più aspetti, abbiamo aree di ricerca, abbiamo tre università, abbiamo un'area di istruzione e formazione professionale che è sicuramente estremamente qualificata rispetto non soltanto al resto d'Italia ma anche come veniva ricordato alle medie europee, quindi ci siamo resi conto e ci siamo detti un po' fin da quel lontano 2013, nel senso che era uno degli impegni che ci eravamo presi nelle linee programmatiche, poi portato avanti nel 2014 con l'EIFU del 5 maggio e poi dopo successivamente ripetuto, ci siamo detti che dovevamo avere l'ambizione di creare le condizioni perché questo territorio fosse un territorio attrattivo dal punto di vista digitale, dal punto di vista della formazione, della capacità del capitale umano, cioè noi dobbiamo essere indispensabili se vogliamo contare e quindi per essere indispensabile contare bisogna avere tutti gli strumenti a disposizione. Questo è il motivo per cui abbiamo accompagnato ad esempio alcune delle grandi riforme che abbiamo fatto, penso alla riforma della sanità piuttosto che alla riforma delle unioni territoriali, sempre con la fase della digitalizzazione e dell'informatizzazione. Sarebbe stato inutile approntare quelle riforme e poi occuparsi della parte digitale delle riforme stesse. Quindi le riforme passo passo sono andate avanti, devo dire che in Siel in questo senso ha fatto davvero in alcuni casi qualche miracolo perché oggettivamente partivamo da una situazione non sempre pronta a recepire la sfida ma devo dire che abbiamo avuto dei risultati anche straordinari che adesso io non conosco i numeri della ricerca, so effettivamente che abbiamo raggiunto anche posizioni che erano insperate nel 2013, è vero che quando abbiamo iniziato a ragionare sulla digitalizzazione del nostro contesto regionale avevamo anche qualche lacuna importante da colmare. Però devo dire che abbiamo fatto sempre questo ragionamento di accompagnare le riforme con l'adeguata digitalizzazione. Vi cito un esempio pratico che credo molti di voi conosceranno, se non lo conoscete lo conoscete adesso. Quando abbiamo fatto la riforma della sanità uno dei temi più critici per qualunque sistema sanitario sono i pronto soccorso perché per una serie di motivi quando si arriva al pronto soccorso e si ha il primo front office con i problemi è chiaro che ci sono tutta una serie di criticità dai tempi d'attesa, a come ti tratta il personale che hai davanti, a come sei accolto eccetera eccetera. Ora o si fa finta di niente o meglio alcuni dati è meglio non averli e quindi come dire auspicare che magari quando arrivi in pronto soccorso sei tra i fortunati che trovano il giorno nel quale ci sono poche persone che accedono al pronto soccorso oppure trovi il giorno nel quale ci sono le persone giuste oppure anche attraverso l'informatizzazione cercare di avere queste informazioni per renderle trasparente. L'applicazione che ha fatto in questo senso in Ciel sulle emergenze, l'applicazione emergenza FWG che in questo momento vi dà il quadro di tutti i pronto soccorso, manca solo San Daniele per una serie di motivi, ma ci arriveremo? C'è anche adesso? Bene, è arrivato. Questi sono tutti i pronto soccorso della regione, in questo momento possiamo sapere in diretta quanti sono i pazienti ad esempio a Cattinara, sono 41, non c'è per nostra fortuna nessun codice rosso, ci sono dei codici gialli, 32 minuti d'attesa, codici verdi, 58 minuti d'attesa, i codici bianchi due ore di attesa. Sapete che i codici bianchi non dovrebbero accedere al pronto soccorso e secondo alcuni questa è una notizia che era meglio non avere con tale chiarezza, così non si sa che aspetti due ore al pronto soccorso. In realtà è il modo migliore per riorganizzare la sanità, cioè sapere che i codici bianchi non devono accedere al pronto soccorso e che se si va al pronto soccorso e si sta due ore è perché non c'è una parte territoriale che è pronta a dare una risposta alternativa a quella del pronto soccorso in questi casi. Allora, a cosa serve quindi accompagnare la riforma con questi aspetti di digitalizzazione concreta? Serve a renderci, come posso dire, a rendere le cose più semplici, a rendere le cose più fruibili, a renderle più trasparenti e a renderle anche immediatamente fruibili a prescindere anche dalle proprie capacità. Credo che questa per esempio sia un'app molto semplice che siamo gli unici in Italia ad avere non soltanto in rete tutti i pronto soccorso, ma siamo gli unici in Italia ad avere in rete tutte le indicazioni in questo momento su dove sono, come sono contattabili e gli orari di accesso alle guardie mediche di tutta la Regione. Quindi è un lavoro che se da una parte dà un servizio in più al cittadino, dall'altro affronta il tema delle riforme con il piede giusto, cioè quello di non pensare soltanto alle carte e poi alla digitalizzazione delle carte, ma affrontare da subito la digitalizzazione dei percorsi in modo da arrivare con un pacchetto già pronto e pronto ad essere fruito ed utilizzato. Funziona così anche per tutti gli altri aspetti delle riforme, da quello per le unioni territoriali a quello che ha riguardato le attività produttive, insomma abbiamo cercato di fare questo processo di, come posso definirlo, di alfabetizzazione, so che è un termine che non piace quasi a nessuno di quelli che si occupano di internet e di web, comunque è stato un processo lento di alfabetizzazione che è servito alla pubblica amministrazione, che è una pubblica amministrazione comunque che ha bisogno di forze nuove, di energie nuove, ha bisogno di utilizzare gli strumenti informatici non semplicemente accendendo e spegnendo il computer, ma utilizzare gli strumenti informatici anche per le nuove sfide che ti danno gli strumenti informatici, pensate ad esempio nella pubblica amministrazione tutto il tema dell'anticorruzione, della trasparenza, dell'accesso agli atti e tutto il resto e dall'altra parte creare, diciamo così, le giuste connessioni in un territorio che seppure di confine ha l'ambizione di tenere insieme dei pezzi importanti non soltanto a nord-est ma anche, insomma, e non solo con le regioni vicine ma anche con i paesi vicini. Il confronto con la Carinzia piuttosto che con la Slovenia, piuttosto che con la Croazia, piuttosto che con altri paesi ancora più distanti è un confronto che ci interessa da vicino come ad esempio, cito per tutti perché mi sembra il più interessante, la creazione del corridoio privilegiato doganale con la Baviera che si fonda fondamentalmente sulla digitalizzazione dei processi doganali e quindi sulla semplificazione prima di tutto dei processi amministrativi. Una delle cose che viene detta alla politica è sburocratizzate, rendete le cose più semplici. Uno dei modi migliori per rendere le cose più semplici è quello di ridurre i processi amministrativi sia nel numero sia nella pesantezza e l'unico modo per farlo è anche cercare di renderli immateriali. Quello delle dinamiche doganali per esempio è un esempio concreto di semplificazione che va accompagnata ma che insomma sta andando nella direzione giusta e che renderà questo territorio estremamente più competitivo di tanti altri. Quindi io non so qual è la visione che mi chiedeva Beniamino ma credo che in questa visione ci voglia anche molta concretezza. noi abbiamo fatto delle cose importanti il 5 maggio definito i food 2014 abbiamo definitivamente staccato il fax dell'amministrazione regionale Friuli Venezia Giulia però i ministeri continuano a mandarci i fax. Quindi c'è anche un problema come dire culturale di approccio rispetto a concretamente a questo lavoro di digitalizzazione e se devo come dire qual è la mia visione è una visione che ha delle asticelle molto alte per quanto riguarda la formazione del capitale umano, il fatto che ci sia quasi una preparazione che ci rende unici in un contesto europeo nel quale oggettivamente abbiamo ancora molti spazi di manovra che è una vocazione che guarda ai due dati che mi colpiscono sempre ogni qual volta ascolto le riunioni della Crui dove ci spiegano con tanto di dati che il 15% degli studenti sta studiando per mestieri che ancora non esistono e che il 20% degli studenti sta studiando per mestieri che scompariranno quando inizieranno a lavorare. Ora di fronte a queste sfide noi dobbiamo creare gli anticorpi adesso, non possiamo aspettare che entrino in un mercato del lavoro che a quel punto sarà o come dire diverso da quello che si aspettavano o addirittura ormai superato rispetto a quello che hanno studiato e per il quale si sono preparati. Quindi rispetto a questo credo che le istituzioni nel dover fare la loro parte debbano creare le condizioni perché in questa cassetta degli attrezzi dei propri cittadini ci siano tutti gli strumenti per affrontarli al meglio e il digitale, il net inteso diciamo in modo più a tecnico e generale è uno degli strumenti più utili e importanti. Qui devo dire che non siamo riusciti a fare tutto quello che volevamo fare, sulla fase diciamo sulla parte infrastruttura non abbiamo raggiunto ancora tutti i cittadini della regione ma come l'Italia non ha raggiunto tutti i suoi cittadini e su questo credo che il prossimo piano della banda ultralarga sia uno dei progetti di visione più complessi ma anche più utili, importanti di questo paese e ovviamente anche della regione. La regione Florianezza Giulia ha allocati solo sul piano della banda ultralarga 86 milioni di euro che però entrano in un contesto di risorse nelle quali la regione Florianezza Giulia ha comunque già l'infrastruttura pubblica più grande d'Italia in proporzione alla densità dei propri abitanti, motivo per cui noi stiamo cercando di raggiungere diciamo così le famiglie e i pezzi che mancano mettendo a mercato quelle parti. È una sfida non banale, siamo partiti dai meno appetibili, le aree di montagna, quelle meno appetibili al mercato però devo dire che è un mercato che ha risposto e quindi se riusciamo e continuiamo a percorrere questa strada alla fine noi riusciremo anche ad avere un'infrastruttura adeguata che ci permetterà di essere altrettanto competitivi. Il futuro penso che sia lì, anzi in realtà è già un presente molto presente insomma quindi il futuro sarà ancora peggio penso e bisognerà attrezzarsi ancora di più rispetto a queste sfide però insomma mi pare di poter dire che la nostra regione sia in condizioni sicuramente migliori di altri territori e che possa sfruttare questa sua posizione di privilegio per cercare di ampliare ancora di più le possibilità di attrazione, di competitività, di efficienza e ovviamente anche di efficacia dei servizi che vengono dati ai cittadini. Troppo? No 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 mi hai risposto sulla visione, ora prima di lasciarti andare ti chiedo nel governo che comunque è impegnativo ma non è ancora giunto al termine della tua giunta, qual è parlando di digitale un impegno, un sogno che uno può pensare di realizzare considerato anche il tempo che l'ha giunta ancora per lavorare su questo tema? Perché hai dato la visione? Ma guarda i sogni sono le cose semplici nel mio caso, nel senso che fatto 100 di visione mi è contento di portare a casa 20 di risultati e sono andando in ordine, l'accordo fatto con Cisco deve far diventare il porto di Trieste il porto italiano più automatizzato in questo momento, Cisco ha lavorato sul porto di Hamburgo, in questo momento quando vuole spiegare ai propri clienti come si fa la digitalizzazione di un porto va ad Hamburgo, vorrei che venisse a Trieste a farlo vedere e credo che questo sia in termini anche proprio di relazioni internazionali un fatto importante, quindi questo è il sogno e il cassetto che mi piacerebbe di chiudere nel secondo mandato, dopodiché mi piacerebbe avere una sanità che si scambia i reperti da remoto, che fa da remoto le analisi dei problemi e che da remoto riesce a dare tutte le risposte che richiede ormai una sanità complessa come quella che stiamo affrontando in un territorio come il nostro dove comunque abbiamo delle specificità importanti, quindi chiudere il capitolo sanità portando a compimento quelle due o tre cose che sono assolutamente fondamentali dalla cartella clinica elettronica ai reperti appunto digitali al fatto che quando c'è un incidente grave chi arriva sul posto ha la possibilità non solo di dire quello che è successo ma di raccontare da remoto tutti i dati della persona che ha davanti in modo che quando arriva in ospedale chi lo riceve in ospedale non sa soltanto se era un infarto un incidente stradale, ma sai esattamente quali sono tutti i dati della persona perché sono stati monitorati dal momento in cui è arrivata l'ambulanza al momento in cui è arrivato in ospedale. L'altra cosa che mi piacerebbe vedere è una scuola, le nostre scuole a partire dai più piccoli, quindi dalla scuola dell'infanzia, la possibilità di vedere bambini consapevoli nell'uso di internet fin dalla prima età e messi in condizione di poter avere la possibilità di una scuola digitale senza aspettare di diventare grandi e di farlo da soli, mi piacerebbe che la scuola gli mettesse a disposizione tutti gli strumenti fin dall'inizio e li rendesse cittadini consapevoli anche nell'uso di internet. Queste sono tre cose piccole e medie, qualcuna è anche grande, però spero che si possano fare. Bene, grazie molte. Grazie.